La mia cosina, le mie due cosine sono stra fluo quindi posso dire che ti ho schiattato 3, 2, 1, go, buongiorno ragazzi ragazzi Oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo video Questo video si lascia di un altro video Scusa, scusa, scusa Io, ro, si, yeah Buona sua cosa ho detto, vabbè comunque raga faremo una sfida ovvero ora tra un po' per iniziare la scuola E quindi ora noi faremo delle sfide, yeah Partiamo, 3, 2, 1, go Sassi caltafobici Sassi caltafobici Sassi caltafobici Dai, sfida, sfida Sassi caltafobici 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 Poi ne abbiamo un altro bellissimo rosa Poi ne abbiamo un altro bellissimo viola Poi ne abbiamo un altro bellissimo Sassi caltafobici Sassi caltafobici Sassi caltafobici Sassi caltafobici Ben dentro Guardate Guardate Ma che davvero C'ho la malattia delle donne Nella mia terra sta 13 donne Allora Praticamente A me Troppo Cassi Avete visto Poi il back to school Troppo bello Praticamente Ci sono questi qui Doppia penna Pennarelli sopra Pennarelli sopra E sotto delle penne Tipo questo Cioè così Qua Pennarello E qua Il La penna Senti Aspettate La mia sfogata Ciao Vieni 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 Qua Hai paura Non mi attesa 13 donne Hai paura Ti smonto Come mobili Di lichia Ti smonto Ti smonto Come mobili Di lichia Ti smonto Come mobili Di lichia Ti smonto Sesso Carta Forbici Oh Sesso Si Non ti permettere Sesso Carta Forbici Allora Ora io ti sfido Con un quaderno Troppo Cassi Che solo io E tu no Io berò Tutto bene Non so che ho detto Però comunque Allora Io ti sfido Con questo Quaderno Sagomati I sagomati Ti sfido Con i quaderni sagomati E ho questo qui Con la tavolotta Tutta bellissima Io ti sfacco Con la tavolotta Tutta bellissima Finissima Wow Ed è arricchia Ed è troppo Cassi Oh Io adesso ti faccio Baby Allora Il mio troppo Cassi Perché io vado a vedere La cosa Senti Non ti metti Mi metti Perché io mi ho troppo Cassi I polaretti I polaretti I polaretti Mia sorella E la bambina Quanti dei dente Noia Ma io Ti ho delle donne Nella mia madre No Ma che è lino Ma Malkulk Sassocartaforbi Sassocartaforbi C Ti Ha preso Il Il diario Della Biu Quello La Del Comunque E C Ci sono Taccini Diversi Dagi Altri E Alla striscia Appunto Diversa E poi Lo puoi Si è mai nel video Ti metterlo giù nei commenti Perché Giulia Vi fare il video Allora Questo è bianco Si può trovare Di qualunque colore Però Non di questa collezione Quindi Ora Io Siamo i rosa E vediamo tutta Io Ora Ti sfido Con Il mio Biu Perché Voi sapete che Io già l'ho decorato E avete visto il video Se non l'avete visto Andatelo a vedere Se vi piace Questa tipologia Di Se vi piace Questo Questo Diario E non Avete ancora Visto Il video Andate A vederlo Subito E dai Levati E in pratica Io vi giro Ed è Questo qui Bellissimo Con il segno della pace L'impinito E poi Delle scritte Bellissimo Io Sono malattito Nella mia testa Scrivete giù nei commenti Qualun è Il vostro preferito Sassocarta Fò B C E dai Muoviti Sassocarta Fò B C Allora 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 Non è una Una operazione Troppo bella Allora Questa qua Della Seven Perfetto 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 E ora Io arrivo Con Il mio Bellissimo Portapastelli Bellissimo Il pack nero Semplicissimo Però è bellissimo Semplicissimo Il nero che si fa Il nero è Ed è fatto così E' fatto così E dai Così Poi E' fatto così Poi è fatto Qui Qui E' fatto qui Sì 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 Allora Che mi sento male Ciao Raga Non si fa Bimba Sassocarta Fò Bimba C Uo Io Quest'anno Come dai No? Ah Lui Che è questo qui Dell'Avance Bellissimo Pazzesco Tutto a bordo Stano Un colore strano Bellissimo Che ha tutte queste Le lasche fighissime Levati E poi Anche così Il cuore di E a E a Brr G A Gi De Bellissimo Bellissimo E invece a me E' un sguardo Sempre di una paleta Che trovo bello Delle così, che mi va così, non so come mi andrà perchè non me l'ho messo, ho provato sulle squadre quindi, va bene, va bene si, per la pesantizza, sono malattia delle donne, scrivete giù nei commenti sono malattia delle donne, nella mia testa 13 donne ora facciamo, salsocartaforbici, quindi deve fare l'intro, non si può, salsocartaforbici, va bene, lo dobbiamo fare insieme 3, 2, 1, go, quindi ragazzi, questo era il video, spero vi è piaciuto, a me è piaciuto tantissimo iscrivetevi all'instagram, marghejulia kawaii, su facebook, marghejulia kawaii real, sul secondo vero, le immagini tv, sul video di marghejulia kawaii, se volete le maglie, le cover, le tassi, cucine, le tessite altre volte di tutti i commenti, coloriamo adesso www.marghejulia kawaii.it vi ricordo che io marghejulia, insieme a voi fermiamo la magia che febbra, cioè amore puro se vi è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale, condividetevi dappertutto se vi è piaciuto, shhhh oh ciao ciao